Musica Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati a questa serata dell'Italia Rocket Championship mi mettiamo a posto un attimo perché almeno sono oggi entrato ok dicevo appunto ben ritrovati io sono Mr. Tristan e questa volta sono io non il mio collega Goli a fare la cicerone a portarvi per mano durante questo play dei 5 che sa di rivalza e potrebbe sapere di inizio di fuga di qualche team che ha iniziato col piede giusto e non ne sta mettendo uno male mai ovviamente non sono da solo lo vedete alla mia sinistra bello come il sole il nostro Nick Harg che mi accompagna come sempre Nick è un piacere averti sempre come spalla Buonasera a tutti grazie come sempre delle gentilissime introduzioni caro 3 posso dire altrettanto di essere contento di condividere questo spazio qua con te perché oggi abbiamo abbiamo una giornatina niente male come dicevi appunto gli exit iniziano a scappare e sotto c'è bagarre per impedire questo accaduto solo che non ci sono abbastanza punti per tutti e quindi qualcuno ci rimarrà diciamo parecchio scottato dopo questa giornata qualcuno rimarrà parecchio scottato però ricordiamo Nick la premessa questo ormai è dimostrato ma continueremo a ripeterlo fino all'infinito questa stagione dell'Italian Rocket Championship sarà la più combattuta quindi con più bagarre da qui fino alla fine quindi fino al play day numero 14 allora dicevamo Nick play day 5 ne sono passati 4 abbiamo già detto che ci sono squadre che hanno messo un piede davanti all'altro iniziano a fare i centometristi un po' la Usain Bolt e quindi per curiosità andiamo a vedere la classifica momentanea alla play day numero 4 vediamo lì in alto gli exit con 12 punti seguiti da Esports Empire a 7 in seconda posizione terzi Replay Totem a pari merito con i Cagliari Calcio a 6 punti poi i No Fear Gaming e i Webidoo Gaming seguono la ruota stretta a 5 HG Sports in crisi a 4 seguiti dai Cyber Ground Gaming a 3 punti in ottava posizione la giornata quindi vede lo scontro tra le ultime due che fanno fatica Nick a macinare punti e dovranno iniziare a rubarseli a vicenda quindi Cyber Ground Gaming affronta HG Sports in un match d'apertura di quinta giornata che sa di vendetta sa di voglia di rivalza continuano i Replay Totem contro gli Exceed quindi scontro invece sul podio i Totem devono prendere punti per evitare che gli Exceed prendano il largo e cercare di fare lo smacco agli Esports Empire che in questo momento sono avanti di un punto No Fear Gaming contro i Webidoo sono a pari merito quindi qua altro match in cui due dirette rivali inizieranno a sgagnarsi i garettini per rubarsi i punti e chiudono Esports Empire e Cagliari Calcio Exceed in Cagliari Calcio Esports perdonatemi che sono in distanza di un punto Esports Empire in seconda posizione e punto come detto prima Cagliari Calcio Esports a 6 Nick sarà una giornata di fuoco e già proprio perché abbiamo tutti i possibili scenari Volete uno scontro con il sapore di relegation in basso? C'è, ce l'abbiamo Volete lo scontro al vertice fra i primi? Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo La bagarra centro classifica? Ce l'abbiamo Poi è tutta la centro classifica perché abbiamo 7 squadre in 4 punti quindi sono tutti lì la media classifica converge con la bassa con l'alta a parte Exceed gli Exceed sono per ora gli unici in doppia cifra gli unici a punteggio pieno gli unici che stanno andando come dei treni quindi loro per ora sono un capitolo a parte ma di fronte hanno la valanga la valanga che a volte c'è e a volte non c'è se questa sera c'è chi lo sa ma Eh, potrebbe essere un grosso smacco scriveteci ragazzi nella chat che cosa ne pensate e interagite con noi attraverso le varie bet che faremo con i vari punti del canale Il primo match d'apertura Nick l'abbiamo detto scontro di bassa classifica scontro che sa di rivalza per entrambi i team scontro che sa di non lo so HG è partita bene con la prima Play Day poi ha avuto un momento di crisi non facile insomma ha un po' un sapore amaro come mi suggeriscono dalle retrovie dall'altra invece i Cyber Ground Gaming anche loro non hanno iniziato benissimo devono un attimo fare i conti e quindi devono capire che non possono più perdere punti in per appunto rimanere attaccati e non rischiare di lasciare lo spot a fine a fine stagione quindi andiamo a vedere appunto apriamo il sipario abbiamo detto i roster HG Sports contro Cyber Ground Gaming HG Sports può schierare saranno in casacca arancione Alex837 Pablo Bar Barist Predator e Vesh dall'altra parte Cyber Ground Gaming possono schierare Soundsgood Shane Futura e Danno Nick allora non facile anche dal punto di vista analitico e cacchierare adesso ci sono tante cose da vedere ci sono tante cose da analizzare tante cose sbagliate tante cose giuste tante cose interessanti da dove vuoi cominciare la domanda più aperta del mondo è bello perché da dove entri entri puoi districarti in vari argomenti allora io partirei magari lato HG visto che sono quelli che magari sono da più tempo dentro quindi avrà più affezionati e loro magari stanno guardando con un occhio particolare questa situazione perché gli HG abbiamo visto che hanno dei giocatori che di base hanno grande potenzialità per fare bene l'inizio comunque con punti ha alzato diciamo magari le aspettative su una situazione che in realtà è più grave di quella di quella prevista dal punto di vista mentale si vede che il team inizia a far fatica non riesce a trovare la quadra è frustrato e quindi questo si rispecchia con i risultati in campo raggiungendo diciamo il picco di calo picco di calo un picco di calo picco di calo nella scorsa giornata dove hanno sofferto questa sconfitta tra l'altro un po' resuscitando i Webidoo che erano quelli che gli eterni incompiuti che giocavano bene ma non avevano punti e questi punti li hanno trovati contro HG HG è andato un po' di più nel nel baratro dall'altra parte i Cyberground invece è un po' l'opposto erano partiti male 0-3 secco contro i Sport Empire e poi pian pianino hanno tolto un punticino e no fear battuti anche i ragazzi del Cagliari calcio che sono quelli che viaggiano viaggiano macinano sono sempre ostici contro gli Exceed ok non gli si può dire nulla perché insomma gli Exceed per il momento sono di tutt'altra categoria però comunque ci stanno facendo vedere che dopo essere partiti male forse loro sono in una situazione migliore visto che si stanno pian pianino indirizzando quindi è uno scontro quasi fra chi è in discesa chi è in salita e si trova una metà strada bisognerà vedere chi rimbalzerà chi continuerà a scendere chi continuerà a salire e quindi è un punto di incrocio cruciale questo qui sarà interessante anche perché da in una squadra ovvero HG Sports abbiamo il Pablito che nonostante tutto continua a convincere sì dall'altra parte invece abbiamo uno Shane che inizia a brillare Shane inizia a brillare lo dovremmo chiamare Shine se continua a brillare così perché davvero inizia a trovare di più il feeling con il gol ci ha fatto impazzire due giornate fa però è bello garoso è bello garoso l'irlandese sì sì quindi iniziano a sbucare anche queste nuove personalità fuori che appunto per me ad esempio ma penso che per molti Shane e future inizio campionato erano delle incognite via via li stiamo iniziando a conoscere e iniziamo a prendere un po' le misure e quindi per ora questo Shane non male direi così come Pavlito Pavlito non per ora non ha quasi sbagliato nessun appuntamento anche nelle partite più complicate dove il suo team alla fine ha ceduto ha comunque macinato numeri importanti e dato utilità al suo team quindi è un giocatore è un buon pick up secondo me per gli HG certo riesce sempre a dare una mano anche nei momenti più complicati è interessante andiamo direi poi ti faccio una domanda tricky Nick molto tricky però prima di farti questa domanda e quindi spoilerare un po' vorrei andare a vedere come noi della noi membri del cast dei caster ci siamo schierati con le prediction per questo primo scontro che appunto è molto importante se non uno scontro di bassa classifica sì gli ultimi due posti quindi Cybergun Gaming HG Esports ci saranno i oh ok un 4 a 2 da parte di Tristan Larukuma e Nicker che si schierano con gli uragani mentre Goli e Tana si schierano dalla parte degli isolani è interessante è interessante se Nick io dopo questa prediction ti dicessi ti dicessi che probabilmente vedremo dei cambi nel roster HG già da questa sera probabilmente quindi ci sarà una sostituzione ci sarà una sostituzione ci hanno dato conferma poco fa ci sarà una sostituzione vuoi vuoi sapere anche i nomi vuoi provare vai prova secondo me prova la prendi la prendi ipotizziamo perché la panchina degli HG abbiamo è una signora panchina è una signora panchina abbiamo il talismano predator come l'ha rinominato professore il talismano si è vero e poi abbiamo il bombarist comunque a mio parere visto che il talismano in panchina ha portato bene come portafortuna e gli occhi più attenti avranno visto anche in in line up il tridente quindi quindi lo scopriremo una volta una volta entrati in campo scopriremo anche questa chicca dall'altra invece ti dico che ho avuto info del fatto che scene futura non erano abituati a giocare in eventi con live stream si erano un po' camera shy questi ragazzi erano un po' camera shy questa è una chiave di lettura tranquillamente è facile che sia così sappiamo che comunque l'ansia alla prestazione quando si è in live aumenta ok quindi bisogna anche essere carichi nel saperlo gestire bisogna essere bravi a saperlo gestire e poi effettivamente lo stiamo notando Nick negli ultimi play day hanno performato sempre meglio fino all'esplosione di Shane la settimana scorsa è un po' chiro si quando hai diciamo il discorso da fare in pubblico e ti dicono immagina che il pubblico sia tutto in mutande esatto riacquisisci sicurezza e non ti blocchi abbiamo visto per l'appunto questi due tipi di giocatori proprio giocare in modo diverso a inizio campionato Shane e Futura si vedevano tesi che rincorrevano spesso lo stesso pallone si davano fastidio questo costringeva molto Sansgood a giocare in retrovia creando molto spazio fra primo secondo e poi terzo quindi spazi vulnerabili attaccabili dagli avversari e dall'altra parte non riuscivano a esprimersi proprio come dovrebbero certo via via andando avanti hanno perso questa timidezza hanno immaginato forse le tre macchine avversarie in mutande e da lì Shane si è scatenato e tutto andiamo a vedere appunto questo primo scontro passando dalla coppia più pazza di caster che io conosca la Shoutcaster Thanatos e l'Analise Caster come si chiama come si chiama o professore Laru a voi la linea e bocca al lupo per questa serata noi e niente e niente caro c'era pure dimenticato il mio nome Tristan io veramente no il soprannome il soprannome che ormai è palesemente diventato il mio nome andrò all'anagrafe a farmelo cambiare perché il nome è Marco non mi piace per niente ma comunque sia abbiamo questo match che come dicevano i nostri colleghi di bassa classifica ma secondo me urleremo come al solito per me ci hanno i cannoni puntati veramente a definire ad oggi play di 5 bassa classifica Laru è complicato tu che sei professore devi ammetterlo è un campionato molto stretto dove anche i piani alti devono fare attenzione perché ricordo dello storico dell'Italian Rocket Championship squadre prime in classifica sole deserte arrivare invece anche oltre cioè sotto e poi tra l'altro HG sono al penultimo posto con 4 punti ma sono a 3 punti dalla seconda posizione sì infatti quindi è pazzesco comunque sia tanto il game sta per iniziare i giustori sono pronti in arancione troviamo gli HG in blu i Cyberground Gaming 3 2 1 let's play play day 5 appena iniziato l'Italian Rocket Championship per il nostro bellissimo martedì Pablo Bar Barist subito da calafiare la sfera e dar seguito all'azione presa dal compagno attenzione tutto libero Alex 837 il nostro giocatore numerato preferito con un buon passaggio di Barist ma Laru quasi non ti do spazio perché qua c'è deserto eh sì 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 effettivamente il deserto è futura non si rende conto di questo deserto e quindi decide di challengeare subito istantaneamente Barist non una buona scelta perché il giocatore Shane scusa se ti interrompo ma è squisciato nella difesa avversaria trova lo spazio 1 a 1 mamma mia che risposta dalla parte di CyberCandor e soprattutto dalla parte di Shane che come sempre ci fa vedere un inizio scoppiettante 1 a 1 non potevamo chiedere di meglio da un inizio del genere ha freddo poi sounds good dalla sidewall cerca di accarezzare il ceiling e poi Pablo Bar ci prova anche futura Shane Barist spaparacchiata in avanti futura la gance buona ha deciso di andare per l'Aerial ma Pablo Bar è posizionato bene e si frappone Alex837 Pablo Bar spaparacchiata in avanti di nuovo al deserto Alex837 ci prova mura tutto Shane anzi scusatemi futura Shane stava tornando stiamo vedendo un sacco di buchi attenzione perché potrebbe essere ancora l'occasione oh Shane qui si fa graziare dalla backboard anche se aveva preso bene le linee attenzione qui a Shane contro Pablo Bar che prova a passare Alex837 la gance è favolosa ci prova quindi a dirgli di no sounds good poi Barist continua la persecuzione di colpi futura ancora lui Alex837 l'idea era buona ma il boost il propellente non sufficiente Shane ne vuole uscire Pablo Bar però si rende conto e si mette nel mezzo poi Alex837 girata veloce per Barist Shane sbucata la sidewall deve impegnare Pablo Bar sounds good che palo tremendo oddio tutte e due le squadre si stanno palesemente sbilanciando in fase offensiva riescono a trovare delle buone trame di passaggi dei buoni buchi ma questi buchi sono lasciati proprio dalla squadra avversaria quindi devono evidentemente trovare entrambe ancora all'equilibrio per poter attaccare senza abbrirsi troppo Alex837 qui cercava di prolungare la sfera non riesce quindi è il Pablito su sounds good che riesce a passare poi Barist il compagno allargo sulla destra demolito da sounds good quindi Barist tutto da solo sounds good Pablo Bar ancora sounds good attenzione però perché non è finita palla spavaracchiata c'è l'intervento di Alex837 probabilmente providenziale spezzata l'aggressione cyberground providenziale l'intervento attenzione a Barist intanto che si sta facendo subito notare si sta facendo vedere e ci sta facendo sicuramente ricordare i bei tempi in cui lui era un giocatore a tutto tondo e per me se posso lo vorrei di vedere costantemente palla sul ceiling a velocizzare la giocata per Pablo Bar e poi direttamente per Barist nominato da Laru nominata anche la giocata del ceiling come avete potuto vedere è su Twitter vi spiegava appunto quanto sono belle queste giocate Laru palla sul ceiling a velocizzare il compagno che arriva giocata corale le posizioni di HG in questo momento sono perfette ripeto in fase offensiva perché dietro lasciano anche loro qualche buco come in questo caso ok per fortuna perché stavo per portare la salita mia sfiga però in fase offensiva ripeto stanno giocando veramente bene si trovano bene nonostante l'ingresso di Barista e quindi sappiamo benissimo tutti quando gioca un sub nella squadra molto probabilmente la sinergia non è ottima perché perché gli allenamenti si fanno col team ufficiale Alex837 dal corner poi Pablo Bar forse non volendo con un tocco di troppo riesce comunque a gestire bene la situazione poi Shane la fa da perdone Barista qui fa una voce al compagno che è andato un po' a lungo quindi ancora Alex837 ad aggredire la tre quarti Futura quasi disperato sulla sidewall perché lì c'è è un deserto è da solo contro tutti poi Futura ottima la demo di Alex837 ma non basta Barista attenzione a Shane con la pinna fuori dall'acqua Alex837 spavaracchiata Barista compie un ottimo lavoro quindi Sunsgood non pulitissimo Alex837 in difficoltà Pablo Bar chiama il compagno Barista 3 a 1 Sunsgood non può arrivarci che bellissima azione da parte di hg che riescono a ripartire dalla difesa erano sotto pressioni sono riusciti grazie al primo uomo il movimento del primo uomo che in quel caso era Barista a togliersi la pressione di dosso perché Barista è riuscito allargarsi andare a prendere il mid booster ricevere un clear tra virgolette un passaggio da parte di Alex837 e quindi poter continuare quella pressione in fase offensiva poi tutto il resto l'avete visto ed è stato magnifo il risultato dice 3 a 1 le mie sensazioni tutt'altro Futura contro Pablo Barista si sportellano i due ancora Futura a cercare il compagno nel mezzo che però non può arrivare quindi Sunsgood in treteggia Shane avanza Alex837 Sunsgood e lui a giocarla dal corner palla scomodissima gestisce bene qui gli hg che rischio che sia preso Pablo Barista ti giuro l'abbiamo visto dentro quella palla ma effettivamente ha fatto benissimo intervenire perché probabilmente sarebbe stato open net per i suoi avversari estensione qui di Futura giocata benissimo però Barista se ne rende conto quindi prova ad applicare la giocata per il compagno che non riesce a raccalappiare la sfera Sunsgood prova la ripartenza con Shane a dare una mano Barista ultimo uomo dal corner zona sua poi Futura Pablo Bar contro Sunsgood palla che schizza Futura prova a fare lo stesso ma non invoglie i compagni ma solo l'avversario Barista verso il mezzo poi Sunsgood insieme a Shane che viene qui davanti fatti vedere Shane nulla da fare tre secondi allo scadere Laru ci sono dei frangenti dove lo dico senza vergogna faccio fatica a seguire i movimenti di tutti dunque io devo dire una cosa vorrei non lo so far firmare una petizione parlare con chi organizza questo campionato non possiamo vedere Shane in primo game ok? non possiamo perché ci giochiamo le corde vocali subito al primo game non va bene ragazzi cambiamo dobbiamo risistemare le cose a parte gli scherzi che inizio abbiamo visto abbiamo visto un inizio scoppiettante e i primi e secondi ce l'hanno fatto ce l'hanno fatto proprio vedere ce l'hanno dimostrato entrambe le squadre non vogliono mollare servono punti entrambe le squadre ricordiamolo sono ultima e penultima in classifica e si sente questa tensione secondo me l'ingresso di Barista per me perfetto o meglio specifichiamo il suo game non è perfetto ci sono stati parecchi tagli da parte di sua che hanno magari messo in difficoltà un po' la rotation a livello difensivo dei ragazzi di HG ma riesce a dare una pressione a livello offensivo una verve e un push incredibile poi la sua esperienza comunque conta quel passaggio che abbiamo visto per il gol in cui il futuro va a pusharlo sul corner non è scontato quel passaggio è perfetto palla sul tettuccio e non sulla punta della macchina palla che va indietro piano compagno solo mid gol quindi per l'ora ottimo ingresso da parte di Barista ancora 5 minuti dove l'Aru anche se il risultato dice tutt'altro io mi ripeterò ho delle sensazioni differenti infatti l'avete visto il mio punto era a favore proprio dei cyber ground Pablo Bar contro Sansgood a delimitare l'avanzato avversario poi Sansgood chiamando il compagno perché era un po' scomodo lo prova va ancora a cercare Shane futura in qualche modo mette la giocata nel mezzo non ci credeva neanche Shane Barista Pablo Bar oddio che dolorosa è questa Alex837 prova la botta va a trovare la backboard quelle sono le situazioni dove ti fa sempre male ricevere il tiro quelle sono le giocate perfette attenzione Barista quelle sono le sue tala e gli era venuta in mente vero? eh sì mi sapeva di rivedere un vecchio gol visto forse in season 1 o 2 e la madonna di Barista quando giocava con la Batmobile sicura Sansgood prima di lui però Pablo Bar poi Futura prova di invogliare Sansgood che non può arrivare quindi lo fa facilmente Barista Alex837 palla che schizza c'è Futura ma prima di lui ancora Barista Sansgood Pablo Bar ora era giocata come prima questa volta però letta meglio di Cyberground Gaming quindi Alex837 è portato allo sparapacchio della sfera Futura in due tempi prova a disturbare Barista non lo inganna quindi Pablo Bar forse il reset c'è la giocata bellissima Shane Graham peccato veramente non aver visto il gol in questo caso di Pablo Bar sicuramente si è comportato molto bene se posso dare un piccolo suggerimento ai ragazzi di Cyberground non stanno riuscendo a leggere bene il gioco degli HG gli HG come come spesso vediamo in questo campionato utilizzano il loro primo uomo non per andare a trarre il pallone non per andare a prendere il pallone ma per infastidire il primo giocatore avversario devono leggere questa giocata e devono capire che non devono andare su quel tipo la palla lì è loro devono controllarla meglio e ripartire Shane qui si mette nel mezzo poi Barista cerca la girata dopo il compagno che ha provato a servirlo bene sounds good il controllo era quasi ovviamente degli HG quindi ancora bubble bar prova a fermargli Frutura nulla da fare Barista 1-0 oh my god un solo cambio Laru eh si è un solo cambio che però ti fa capire quanto sia importante mettere pressione avere le distanze giuste dai propri compagni di squadra poi Barista molto intelligentemente capisce che con quel pallone il suo compagno di squadra può solo fare un 50 quindi la palla rimarrà in quella zona del campo vicino a quel corner si avvicina la posizione è perfetta e il tiro poi altrettanto quindi 1-0 HG direi meritato per quello che stiamo vedendo adesso ma vogliamo vedere una reazione soprattutto dalla parte di Futura perché Shane secondo me c'è ma Futura quest'oggi non lo sto vedendo brillare posso anche dire che però ha provato un paio di tocchi ecco questo è il terzo questa volta passato quindi ancora un attimo di attenzione dove però Futura si stava muovendo bene ma la difesa HG è monumentale Laro le posizioni sono buone il primo game difensivamente non erano buonissime gli errori li fanno quando ripiegano quando devono tornare e seguire il pallone in difesa lì commettono molti errori ah Shane si 1-1 guarda ti stavo per interrompere per dirti proprio questo Futura ha cambiato ha giocata ha ignorato il 50 ha spaparacchiato la palla in aria chiamando il compagno che arriva dietro a prendersela 1-1 ma non è che mi sentono per caso può darsi è perché qui Futura fa una gran giocata e il tocco è veramente quel tocco davanti alla porta è imprevedibile che non riesce a leggere però va a creare poi l'opportunità sounds good disturbato qui dall'avversario addirittura un paio degli HG Sports deve quindi mettere il boost Pablo Bar per tornare indietro Futura la gancho è il suo attenzione a Baris che aveva capito tutto non riesce però a fermarlo ma il disturbo c'è stato quindi Shane prova ad allungarsi adesso sounds good non so se c'è il compagno per la giocata no perché era dritto in porta Alex 8-3-7 clear favoloso invogliare Baris che belli sono le cose più giuste che puoi fare in quelle situazioni wow Alex l'ha cercata per Baris che stava lì dietro quindi ancora Alex elementare Watson ok non ho capito qui ti ha visto spuntare Futura bravissimo effettivamente il pallone non era comodo per tirare direttamente in porta lì di Alex avevo visto male io poi però intelligente a capire che quel pallone può tornare ancora utile comodo per segnare resta lì e così avviene però ripeto la chiave in questo match di HG è proprio la pressione come al solito sono tornati a farlo bene a seguire clear ad avere sempre il secondo uomo vicino a chi sta facendo l'azione e questo gli sta permettendo di creare tutte queste occasioni da gol guarda qui Futura dopo uno Shane che provato anche a bamparne un paio sicuramente il disturbo c'è stato la giocata non viene conclusa sounds good è qua non può sbagliare infatti non lo fa poi Barist neanche il 50 va a cercare direttamente il contagio che vuole il doppio tocco Alex 837 ma what a Barist what a Barist ma questo passaggio di Barist da incorniciare ma bellissimo qui si sente proprio cioè si vede perché non possiamo sentirlo la comunicazione del team perché questo passaggio è sicuramente chiamato la popata del pallone così in alto per Alex che quasi la pre-jump o comunque sia è prontissimo a farlo poi il double staccio perfetto è ancora Barist per Alex 837 sempre lui HGSport what a monster can you stop the hurricane? questo cambio forse forse lo volevamo vedere qualche giornata fa wow che spettacolo quanta bella roba nulla ho lasciato al caso poi tra l'altro contro i cyberground che ti ricordo ultimamente ci stavano lasciando senza parole per quanto bene stavano facendo quindi stanno giocando bene io non li vedo così disarmoniosi stanno soffrendo la pressione e beh perché HG non ti lascia un pallone come dici tu il clear intendevi prima bellissimo il clear che belli questi clear sono belli però se hai l'uomo a seguirlo l'uomo vicino capisce quella giocata perché se no diventano passaggi agli avversari ed è questo che sta facendo la differenza i cyberground non hanno un pallone pulito un pallone da giocare ma attenzione a Shane ce la fa tutto tuo oddio stavo guardando Shane e mi sono interrotto perché pensavo di aver visto una parata non epica allucinante da parte di Alex837 che per un millimetro forse non la tira fuori Tanatos ma anche meno di un millimetro perché sarei andato via può essere non era umana non era umana guarda non so se anzi sicuramente non cambierà questa partita il gol di Shane per lui è un gol importante per i cyberground è un gol ancora più importante però voglio riprendere quello che appunto avevo aperto in discussione con te gli HG stanno dominando Barist sta facendo tanto male ma veramente tanto Alex837 gli piace il servizio del compagno e vuole continuare in questo modo qui Pablo Bar si sta comportando egregiamente bene poi magari l'abbiamo visto brillare un po' di più ma c'era anche un altro giocatore anziché Barist prima e come hai detto tu una squadra che si allena tutti i giorni insieme e che gioca sempre insieme ha sicuramente delle marce differenti ma i cyberground gaming guarda mi dispiace io infatti li avevo messi nelle mie prediction perché manca uno per fare due non so se mi spiego per concludere manca quel punto per chiudere il cerchio sì per gestire meglio degli hg sarò ripetitivo alzo le mani ma sono ingestibili oggi gli hg e ti dirò Pablo Bar probabilmente ci sembra che stia performando di meno rispetto alle altre giornate ma non è così è vero in realtà il problema è che le altre giornate c'era la coppia Alex e Vash che iniziava a non funzionare più e quindi per forza di cose era uscito Pablo Bar il Pablito in questo momento la coppia invece Varist Alex 837 sta funzionando a meraviglia e quindi il Pablito è lì è comodo è puntuale è a controllare la situazione e fa bene perché questi due si stanno trovando alla perfezione Sonsgood qui non può arrivare quindi lascia il compagno Shane rischiosissimo ma non poteva fare altro perché Alex 837 comunque aveva provato il dunk poi ancora Shane a combattere per la sfera cercare anche la demo non trovata quindi Sonsgood non volendo verso Alex 837 ancora Shane buona la rotation Alex 837 qui a negargli il doppio ducco poi Futura Barist Barist passa ovunque ancora Barist poi per Shane Alex 837 Sonsgood se le stanno dando un po' tutti Pablo Bar a cercare Barist gli si è allungato di un pelo il passaggio perché era buono ancora una volta secondo me sì ma l'idea era perfetta perché tutti lì si aspettavano un passaggio per Alex 837 che era sulla stessa sullo stesso side del pallone invece il cambio di side in questo modo è imprevedibile e soprattutto toglia la scrupista i difensori avversari era perfetta l'idea l'esecuzione un pelo troppo lunga qui adesso Sonsgood veramente non ci passa neanche Barist c'era il compagno in mezzo ma ancora una volta io lo devo dire anche se è già successo Shane che cosa ha parato perché Barist aveva fatto l'ennesima giocata da paura al corner andando a servire il compagno nuovamente in mezzo unbelievable Barist 1-0 il follow up decisamente perfetto da parte di Barist Alex 837 con questa solo play anche questa decisamente perfetta perché impedisce con l'ultimo tocco che Futura possa intervenire su quella palla anche se secondo me avrebbe dovuto provarci e poi Barist ripeto la posizione dal secondo uomo di Barist è sempre perfetta io adesso ve lo dico piccolo spoiler tra virgolette privato dell'irce avevo pizzicato Barist e gli ho detto guarda che io oggi ti massacro e invece ti sta massacrando di te perché non posso dire niente niente sounds good Pablo Bar Shane sulla side vuole a cercare il compagno c'è timidezza c'è timidezza nei cybercrown gaming Shane sounds good buona qui a cercare la giocata da centrale della sfera poi Barist ancora una volta a dar fastidio Pablo Bar ancora Pablo Bar mamma mia per cosa non la prende Alex837 una traversa la doveva prendere Barist una parata la doveva subire quindi cybercrown gaming avanti tutta Alex837 subito a divertire la ruta cerca il compagno perché se no lì c'andava Shane anzi futura Shane eccolo qui arrivare adesso anzi in ritardo sounds good spaparacchiata Barist qui buona la giocata di Shane questa volta dico bene a nominare lui va con il bump poi futura non trova lo specchio sounds good very good spazio difficile l'aru eh sì se abbiamo prima sottolineato la buona intensità da parte di hg questa volta dobbiamo sottolineare invece l'aggressione stupenda da parte di cybercrown che un se non sbaglio Shane all'inizio cerca un bump poi sounds good a chiudere questa giocata perfetta dell'1 a 1 così vi vogliamo vedere cybercrown per favore sounds good prova qui a ripartire Alex837 a fare da deterrente sounds good chiama il compagno perché è in chiarissima difficoltà infatti parte Shane che si è fatto trovare bene nella zona di mid Alex837 chiamata al clear dalla backboard un po' in difficoltà e infatti futura riesce a togliergli la sfera poi Pablo Bar te ne è molito sounds good non riesce ad andare sulla side quindi Baris spuga ma non trova il tiro in porta avrebbe fatto malissimo futura cerca la giocata Pablo Bar non si lascia ingannare grazie anche al disturbo del compagno sounds good con calma molta calma tantissima calma prova a passare quindi Baris futura che brutto 50 qui che si è andato a cercare porta esposta Alex837 2 a 1 è qui è qui invece c'è ecco l'uno che manca per far due eh lo hai analizzato perfettamente tu quel quel 50 di futura è a me spiace dirlo è imbarazzante perché lì o 50 come si deve oppure ti togli da quella palla in modo tale che il pallone pinca il compagno dietro di te più che altro 1 a 1 non ci conviene neanche cercare queste single play no a scartarne uno sperando di fare gol perché il tempo ci sta anche perché non so se i cybergram si stanno rendendo conto di questa cosa ma ogni volta che la palla finisce sulla loro backward è un casino quasi sempre o gol o occasione da rete da parte di HG che riescono sempre a portare il secondo uomo per il tapin vincente non riescono a proteggere la loro backward poi anche in affaticamento di boost infatti li vediamo quasi sempre a zero prova a metterci almeno il corpo Shane nulla da fare quindi Pablo Barr cerca Alex 837 per la giocata poi Swansgood futura riesce a sbucare questa volta palla che sbiova fissano il compagno Shane tira da dentro maledetto nulla da fare Alex 837 era sul palo giusto Swansgood futura Pablo Barr ancora l'olandese che ci prova a dar vigore ai suoi poi Alex 837 dirgli no Parist Swansgood diritto contro la sidewall può spuntare Futura Swansgood penso che abbia fatto una voce ma deve andarci Shane così era poi contro Pablo Barr palla che schizza 14 secondi un gol per gli HG che li stanno mantenendo a gallo in questa partita perché i Cyberground ci stanno provando poi Futura direttamente in avanti spaparacchiata Parist a cercare il mezzo del campo dove non ci sono Cyberground Gaming ancora una volta una scelta bellissima di Barist Pablo Barr 3 a 1 ma veramente io rivedo degli HG così la prossima la prossima e la prossima ancora e ragazzi li vediamo in vetta GG well played sono finalmente d'accordo con te Tana hanno dato prova quest'oggi di essere veramente in forma con Barist e di poter ritornare nelle posizioni che contano in classifica ricordiamo che adesso con questo 3 a 0 secco vanno a guadagnare 3 punti quindi passano da 4 a 7 punti in questo momento vanno a riprendersi la seconda posizione in pari merito con gli Sports Empire è vero che devono ancora giocare tutte le altre squadre ma questo per farvi capire quanto è corta la classifica e quanto è corta la situazione qui basta perdere una e l'altra squadra vince tutto da capo tutto da capo signori incredibile prestazione da parte di Barist Laro io penso di non aver mai parlato fuori così tanto tra virgolette dal mio ruolo ma quando giocano così quando le nostre squadre giocano così e c'ho Barist che mi sta scrivendo in privato ma c'è ragione perché io devo stare zitto infatti sta zitto eh sì poi onestamente se posso esprimere un altro mio parere Barist Barist chi te lo ha fatto fare di ritirarti dal competitivo chi spiegacelo magari prossimamente più avanti magari lo avremo in intervista chi lo sa andiamo andiamo dagli altri sì andiamo dagli altri andiamo in analisi tesca ragazzi Barist è andato via Barist slow time slow time proprio come si dice ti ho scritto Nick ti ho scritto Barist no ti ho scritto Bat Barist il giustiziere degli HG in questo match ha difeso Gotham Hurricane City e l'ha fatto veramente veramente bene che è contributo al suo team sì praticamente prima ci ho visto principalmente tre cose che Barist ha portato in campo questa sera dicci tutto abbiamo un'intesa con Alex che veramente over the top si cercavano si trovavano funzionavano molto bene il molto più sollievo su Pavlito che appunto adesso magari non ha brillato tanto a livello di scoreboard ma si vedeva che era molto più a suo agio e che non è stato diciamo forse costretto al carry come nelle giornate precedenti e poi Barist l'ottima gestione dell'attacco in profondità e della posizione da secondo perché quando ti trovi così bene in posizione intermedia del campo riesci ad attaccare la profondità quasi quando vuoi senza però esporre la squadra io ho visto Pavlito che veramente si trovava molto a suo agio quando saliva sulle palle alte la droppava giù e trovava sempre Barist giù a prendere il pallone tanta libertà lì sul lanciare Alex sul lanciare Barist anche l'asse Barist Alex passaggi bellissimi come ho visto veramente un altro team è come se Barist avesse dato più self confidence sia a Alex 837 che noi sappiamo tutti essere un player abbastanza solido molto completo ma soprattutto a Pablo Bar vero che quando c'era Vash c'era la stella c'era la punta di diamante che prendeva la palla si faceva tutto il campo e te la batteva dentro faceva il cavallo impazzito da una parte all'altra e quindi dava imprevedibilità però con questo terzetto Nick io vedo più team preferisco si magari un gioco neanche a dire più leggibile perché anche i cyber ground hanno visto la difficoltà che hanno avuto nel cercare di capire la strategia hg però preferisco magari un gioco ecco più corale in questo modo che magari doversi affidare al lampo di genio del cavallo pazzo come dici tu del cavallo si del cavallo della stella meccanica di tu che se ti imbrocca la serata ok va benissimo ma se non la imbrocca rischi che a lungo termine ti porti una situazione non ottimale anche non a parlare di serata anche semplicemente come match up se ti serve più team contro una squadra e hai appunto questa persona che c'è questa persona questo questo giocatore che per abitudine di squadra tende a tagliare a dare a non essere fluido nella rotazione dietro eccetera può destabilizzare poi tutto il resto noi sappiamo abbiamo visto tante volte sia Pablito che Alex fare la loro forza appunto in questo cioè essere precisi in rotazione sì certo vabbè qualche whiff qualche errore lo fai ci sta il problema cioè il fatto è che con questa situazione le abbiamo visti tanto avanti oggi non le abbiamo visti tanto dietro quindi bisognerebbe vedere questo terzetto quando si prende le martellate come reagisce sono d'accordo con voi abbiamo il punto di domanda sarei curioso di vederli magari contro squadre che tirano tanto adesso abbiamo avuto poco fa lo scontro con i quindi magari ce li dovremmo vedere al ritorno con questa nuova line up però devo dire che questi hg per ora a livello di equilibrio mi piacciono di più per come si sono piazzati questa sera e veramente Alex ha portato linfa fresca proprio al modo al modo di giocare sarà interessante vedere come si riadatteranno anche perché per l'appunto magari ho visto un pochino fuori fase nei meccanismi della rotazione giusto a inizio serie ma poi si è riadattato subito ed è entrato più nel giro in quanto una partita e mezzo quasi poi vabbè non sono stati eccessivamente pericolosi cyber ground da vedere magari un po' più di falle difensive degli hg però si è adattato quasi subito come ha detto l'aru loro hanno sofferto i tentativi di ripartenza quindi in fase di transizione tra rotation offensiva molto overestesa come fanno gli hg riuscire a recuperare e salvare a volte hanno avuto il buco ecco e quindi ci sta nel senso bisogna un attimo capire come muoversi ti faccio un'ultima domanda prima di andare in pausa abbiamo elogiato questo nuovo terzetto di hg parliamo invece adesso dei cyber ground cosa hai visto cosa abbiamo visto cosa quale può essere la loro chiave di lettura a parte l'aver sofferto tanta pressione loro sicuramente analizzeranno la il modo di giocare di hg come hanno come reagire a una situazione del genere tu fossi il loro coach nick cosa gli consiglieresti di non cadere tanto nei tranelli tattici avversari perché un pochino gli hg li hanno quasi ingannati si sono costretti diciamo da soli nella loro metà campo un po' quasi beitati dalla dalla palla e dalla golosità di prendersi un contrasto che ti può dare una ripartenza e in questo in questo tipo di situazione gli hg hanno gestito veramente veramente bene il tutto e i cyber ground erano quasi in molti casi a fare dei 50 a perdere quasi di conseguenza ok che sei ingolosito che vuoi ripartire devi cercare però di aggirare questo ostacolo e di estenderti di più senza però cadere nel in questa impazienza 1 e poi magari nell'insicurezza abbiamo visto per dare appunto credito a questa tua analisi abbiamo visto appunto tante ripartenze sia da parte di barist che di pablo in fake musty per cercare di baitare appunto la difesa di cyber ground che ha abboccato più volte all'amo facendo perdere il primo e quindi trovandosi in inferiorità numerica la squadra è tutta compattata dietro poi esatto e poi per forza di cose con un baricentro così alto da parte di hg rischi lo star ma anzi lo soffri e poi diventa tutta una catena perché poi sei starvato di conseguenza non puoi uscire ed è un cane che si morde la coda e si ritorna appunto a capo i cyber ground per l'appunto non sono riusciti proprio in questa cosa qui a trovare ossigeno scusate per avanzare quello che stava un pochino mancando l'ossigeno per avanzare e di conseguenza non hanno potuto esprimere al massimo il loro gioco si è visto ogni tanto punto futura che cercava di inventare magari col tocco a destabilizzare quelle poche volte che andavano davanti quando ha fatto quel tocco sulla linea di porta è stata un'idea bellissima mi è piaciuto molto lì ma sono poche le volte in cui sono arrivati in questa situazione è qui e di conseguenza capitalizzi sì un'occasione due ma non ti vanno a bastare alla fine della serie no certo cyber ground la prossima volta li vedremo contro i webidoo abbiamo detto già in apertura che cyber ground non può più permettersi di lasciare punti stava era in fase crescente ci stava piacendo ci stavano convincendo nonostante ovviamente i risultati parlano al contrario di quanto stiamo dicendo noi hai paura di un mental breakdown c'è boh settimana prossima webidoo come la vedi e dobbiamo ancora vedere webidoo però piccola anticipazione allora mi aspetto di webidoo devo dire che mi piace molto come gestiscono l'attacco è un team che quasi come hg ti martellano costantemente quindi se appunto la paura è quella di un mental breakdown è una cosa possibile anche perché a fine serie non so se è stata per la batosta oppure non so qualche altro fattore dietro le quinte li ho visti un pochino insicuri devono cercare di capire questa sera che cosa è successo per creare un counter per giovedì perché c'è il rischio di trovarti davanti un team che ti gioca il livello di pressione in un modo molto molto simile lo fa anche un po' i webidoo soprattutto magari l'ase giga quando si lanciano in profondità e lo cercano un po' quel 50 in particolar modo con i drag cercano di tenersi dietro la palla guadagnando metri certo quindi magari è quello il parallelismo che puoi trovare con la serie di questa sera e se fai tesoro di quello che è successo magari accusi un po' il colpo ma poi puoi trovare la quadra sarà un match complicato ma i semi ground hanno bisogno di capire che cosa non è andato e il team di webidoo può essere un qualcosa di semi parallelo su cui puoi applicare cosa hai imparato questa sera analisi un attimo velocina perché poi ci stanno chiamando giustamente il break ti ricordi in playday 2 abbiamo visto HG contro Caleri Calcio eSports Alex19 nell'intervista che è arrivata subito dopo hanno detto che il loro playstyle basato sui bump sulle demo era stato creato ad hoc per controbilanciare l'uragano tu pensi che con l'arrivo di Barist quindi questa solidità in questo momento dopo questa prima giornata che abbiamo visto questo terzetto possa essere ancora una chiave di lettura interessante contro il team bianco-rosso usare giochi fisici e bump play può sempre essere utile magari non in un modo così efficace come lo era con la vecchia line up che era molto più estesa rispetto a quella che abbiamo visto questa sera ma è sempre utile perché comunque anche se meno estesa gli HG tendono a estendersi tanto abbiamo anche visto nelle fasi di pressione erano tutti e tre su e quindi lì ancora il counter può essere un'arma che può servire molto quindi sì il gioco fisico può ancora funzionare devi magari ponderarlo meglio ed essere certo sicuro di essere efficace quando rompi la rotazione per attuare la bump play perché ti lascia comunque questa nuova formazione ti lascia un po' meno margine di errore certo un team che applica anche molto questo tipo di gioco fisico sono per appunto i Wavy Do che tra l'altro anche Sorius nell'intervista ci ha detto ci ha confessato che anche questi Exceed faticano contro questo tipo di giocate quindi se si dovesse spostare tutto sul fattore legnate potremmo vedere delle dinamiche abbastanza interessanti delle dinamiche interessanti sia per riscalare la classifica che magari tirare uno sgambettino a chi è su in cima va bene dai allora chiudiamo il sipario sul match di apertura HG Sports contro Cyberground Gaming HG Sports porta a tre il bottino dei punti a casa contro questa squadra e noi andiamo in pausa preparandoci per il prossimo match ovvero Replay Totem contro Exceed rimanete con voi perché l'Italia Rocket Championship sponsored by Erection VigorSol ritorna direttamente a casa vostra